A 18 anni andavo a ballare, a ballare su Pettare, come si chiamava, all'Avis, in via Bassini a Milano e lì ho trovato il mio amore. Lo sono sposato a 20 anni. A 21 mi sono sposata e sono venuta a abitare a Vimodrone, perché a Vimodrone abitava anche mia sorella già. Mia sorella mi ha trovato la casa in via Diaz e sono venuta a Vimodrone.